Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Demopolis che è fatto con Lega e Forza Italia già federate. Questo sondaggio stima intorno al 26% i consensi che raccoglierebbe il partito unico di centrodestra. Quasi sei punti in più di Fratelli d'Italia, per l'esattezza cinque punti e mezzo perché Fratelli d'Italia sarebbe al 20,5%, mentre il PD sarebbe la terza forza con il 19,4%, quarto il Movimento 5 Stelle con il 16,8%. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video. Grazie a tutti, a presto. Grazie a tutti.